Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su Leontube, eccoci in questo video per andare a postare due nuovi codici, andiamo subito a selezionarmi e vediamo che premi ci sono eccoli qua, allora andiamo a digitare il primo, H maiuscolo, C minuscolo, J maiuscolo, H minuscolo, X, W, S, J e andiamo a vedere che cosa c'è, andiamo a vedere se è valido, questi ragazzi sono sicuramente codici molto limitati quindi dovrete affrettarvi per andarli a prendere, questo è il primo, sono 10.100 gettoni, il prossimo ve lo vediamo con un altro video mi raccomando mettete un bel like, condividete il video con i vostri amici, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti, ciao a tutti grazie